Una giovane vita spezzata a Gattinara. Mercoledì 13 aprile una ragazza di 18 anni, Giulia Gaspari di Brusnengo, è morta investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in Corso Valsesia a Gattinara. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno indagando come sia avvenuto il sinistro. L'unica cosa certa al momento è che una Mercedes per cause ancora ignote ha colpito la giovane e una sua amica 17enne mentre si apprestavano ad attraversare la via. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori, Giulia è spirata sull'asfalto. L'amica invece è stata trasportata in codice giallo all'ospedale maggiore di Novara. Il vice sindaco Daniele Baglione ha espresso tutto il suo cordoglio visibilmente provato dall'accaduto. Ecco cosa ci ha detto. Una tragedia in mani ha colpito la nostra città, purtroppo sono cose che non vorresti non soltanto mai vedere ma neanche sentire e non dovrebbero mai accadere. Ci stringiamo il dolore delle famiglie, non ci sono parole ovviamente in questi casi, soltanto lacrime e preghiere per tutte le persone coinvolte. Tutta la nostra comunità è al fianco delle famiglie.